Su Radio Italia Solo Musica e Italiano l'abbiamo detto prima che avremmo avuto un ospite oggi e ce l'abbiamo Esatto, esatto, noi siamo amici di Alice for Children, quindi abbiamo adottato a distanza alcuni bambini orfani delle baraccopoli di Nairobi ma oggi è venuta a trovarci Daniela che insieme a suo marito che si chiama Giuseppe e ai piccoli Arianna e Matteo hanno adottato a distanza la piccola Linette, ciao Daniela Ciao, ciao, buongiorno, ciao a tutti Ciao ragazzi, buongiorno Ciao, 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 allora innanzitutto grazie per essere qui Grazie a voi Abbiamo approfittato, dobbiamo fare una telefonata ma siccome è qua della zona è meglio se viene a trovarci Avete fatto bene Daniela, così ci racconti tu questa esperienza, perché avete deciso di diventare genitore a distanza, come è nata la cosa? Allora, il merito è tutto di Arianna, che lo scorso Natale a Gesù Bambino e a Babbo Natale ha chiesto come regalo l'adozione a distanza di una bimba Mi sono messa appunto alla ricerca e ho scelto Alice for Children perché dava la possibilità di avere contatti veri con la bambina, quindi non solo pagare e dire ho aiutato qualcuno, ma proprio entrare in contatto diretto perché volevo che questa cosa, come dire, fosse umanamente un'esperienza positiva per la bambina E quindi abbiamo scelto Alice for Children che dà la possibilità di collegarsi via Skype con la bimba e qui ci divertiamo, ormai mandiamo foto, lettere E qual è stato il momento più emozionante in questa storia con Linette? Il primo incontro, vero? Perché è stato forte il vedere concretizzato Quando abbiamo conosciuto la bambina L'avete conosciuta? Per te una sorella o un'amica? Una sorella Che bello, che bello Noi attraverso questa intervista, insomma vi ringraziamo per essere stati qui Vi ricordiamo che è possibile diventare genitore a distanza con Alice for Children e anche di partecipare a un'iniziativa concreta che è Alice Reality Life Esattamente, andate sul sito aliceforchildren.it o altrimenti sul sito di Radio Italia trovate tutto Ci sono anche dei numeri di telefono, vi lo diamo E lo 02 45 49 15 03 02 45 49 15 03 Per mettersi in contatto naturalmente con Alice for Children Grazie ad Alice for Children, grazie a Daniela e anche ad Arianna e Matteo e anche a tuo marito Giuseppe Grazie a tutti Grazie a tutti